Dopo il successo della passata edizione a Castiglion Fiorentino torna il Venerdì Vero, iniziativa che prevede l'adesione spontanea sia degli esercizi commerciali sia degli ambulanti del mercato settimanale con promozioni straordinarie applicate alla merce in vendita. L'evento promosso dall'amministrazione comunale in sinergia con Confcommercio e Confesercenti ha come obiettivo quello di sostenere l'economia locale privilegiando l'acquisto e la vendita all'interno del territorio. Vogliamo intanto scongiurare qualunque altra situazione analoga che provochi la chiusura delle attività commerciali di qualunque genere. Non ci possiamo dimenticare quello che hanno sopportato negozi di vicinato dei nostri centri commerciali ma anche i mercati infrasettimanali e quindi cadendo di venerdì il Black Friday, come si chiama? Io dico Black Friday un corno perché vorremmo che il venerdì e tutti gli altri giorni fossero opportunità per queste categorie mettendo anche perché no da parte anche questo e-commerce e tutto quello che online scavalca, uso questo termine, i negozi tradizionali. Allora il Black Friday di Castiglione Fiorentino raddoppia e diventa venerdì vero sia il 19 di novembre che il prossimo 26 che sarà il vero giorno del Black Friday.